molto piacere raffaele bellini sono il titolare della ditta e questa bella bambina come ti chiami Mela ma Mela sta per Carmela no Mela sta per Mela e Jennifer sta per Gennaro solo che mi piace più Jennifer ma è un nome da è la donna lo so ma è più internazionale ma è lui sì vogliamo dare un'occhiata alle problematiche prego accomodatevi la questione è che ci piova dentro sia nella casa che nella casetta vabbè diamo un'occhiata alle guai può essere che sto qui sennò rifacciamo solette grondaio tutto un belino una curiosità ma srls che vuol dire società responsabilità limitatissima sto scherzando buongiorno benvenuti